A marzo apre Aldi, una nuova idea di spesa. Ma Aldi è anche il nome di oltre 100 famiglie in Italia. E se fossero gli Aldi a provare in anteprima i prodotti Aldi? Che bazza! Ci pensiamo noi a dirvi se è buono. Segui le famiglie Aldi su aldi.it. Aldi, chiedi a chi l'ha provato. Cioè, a noi!